Ciao, bentornato da Marco Marino e da Baspedia.it. Siamo giunti alla terza lezione sui modi. Se non hai visto le precedenti due, ti invito a prenderne ora visione, prima di questa, così da poter chiarire quali sono gli aspetti che vado a approfondire sullo strumento proprio nello studio dei modi. Quest'oggi tratteremo il modo frigio, il terzo modo della scala maggiore diatonica. Il modo frigio determina un accordo minore settima e la sua struttura intervallare è semitono, tono, 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 semitono, tono, tono. Vediamo ora tutte le possibili diteggiature su un'ottava, sia in verticale, quindi le classiche più qualche piccola eccezione, sia su una corda e su due corde. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, adesso cerchiamo di utilizzare le diteggiature su una corda e su due corde in maniera più musicale con degli esercizi atti proprio a enfatizzare le qualità musicali del modo e la sua sonorità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perfetto. Adesso ti suonerò un esempio musicale sul modo frigio di do diesis su una sequenza di accordi re maggiore, mi maggiore, do diesis minore. perfetto. I suoi amici. Ok, ti ricordo che la base di questo ultimo esempio e le trascrizioni degli esercizi e dell'esempio vi trovi su baspedia.it. Un saluto e a presto da Marco Marino e baspedia.it